Ebbene sì, complimenti a tutti quelli che hanno fatto l'iscrizione, salve ragazzi sono Crax e bentornati nell'applicazione sviluppatore di Brawl Stars Video Sneak Peek Al momento ci troviamo nel mio account principale, ma è solamente una fase di passaggio per fare la intro di questo video che deve essere velocissima Perché? Che cosa vi farò vedere oggi? Il mondo boys, vi farò vedere tutti i nuovi gadget per tutti quanti i brawler, io mi sento male Sono per l'esattezza, in questo episodio 33, perché noi brawler non li tratteremo, 33 gadget da provare, valutare, vi leggerò le descrizioni Io vi consiglio di eseguire tutto quanto l'episodio, sarà una carrellata pazzesca di roba, vi chiedo almeno 33 like, iscrivetevi attivando la campanella Perché arriveranno altri sneak peek e soprattutto se siete naipe per l'aggiornamento, cosa fondamentale nello shop codice creatore Grax Per altri video, per supportarmi, taggatemi su Instagram, lo vedete qua sotto, che vi riposto Detto questo, andiamo nell'applicazione sviluppatore, partiamo da Shelly Ed eccoci qui, siamo su Shelly e attenzione, li vedremo ragazzi per rarità Quindi partiamo dai comuni per poi vedere rari, super rari, epici, medici ed infine leggendari Sono un botto, ripeto, 33, dobbiamo andare velocissimi Guardate in basso a destra, c'è un piccolissimo gadget verde che si può utilizzare tre volte in partita Attenzione, precisazione solamente che faccio nel primo brawler, poi dopo leggiamo anche la descrizione Non ha un raggio d'azione come le varie ulti e colpi Quindi soprattutto non si ricarica con i danni subiti, con i danni effettuati, scusate Ad esempio la super si può ricaricare e puntare Il gadget, ragazzi, io cliccandolo non riesco ad indirizzarlo Il gadget, come quello di Shelly, che ad esempio vi leggo la descrizione Shelly balza in avanti usando un gancio attaccato ad una corda Funziona in base a come ci stiamo muovendo Vedete il mio analogico di sinistra, quello blu? Se io utilizzo il gadget, Shelly, sprinta in avanti Ragazzi, possiamo andare a prendere dei brawler leggermente lontani Si ricarica il gadget e possiamo utilizzarlo altre due volte Questo è totalmente illegale Ad esempio, ci rimane, regà, qualcuno con filo di vita Da lontano io non riesco a farlo fuori con i colpi di Shelly Ebbene io faccio una cosa del genere e lo vado ad ammazzare Questo è Shelly, passiamo al prossimo Nita ordina all'Urs di colpire violentamente il suolo Creando un terremoto che paralizza tutti i nemici vicini Quindi questo gadget al momento è disattivato perché non abbiamo l'orso Cerchiamo di caricare immediatamente l'orso e poi andiamo a vedere come li paralizza Vai, veloce Sbam, lo andiamo magari a mettere qua così da paralizzare eventualmente il robottino Paralizzato ragazzi, per un tot di secondi E possiamo riutilizzarla ovviamente per altre due volte Fino ad un massimo di tre Paralizziamo i robottini Ragazzi sto volando, giuro sto volando Non capisco quanti secondi sono ma penso un paio Ovviamente finisce il gadget E fino alla fine partita non possiamo utilizzarlo Boys, questo è legale Colte ricarica all'istante Revolver con due colpi Colpi infiniti Cioè stiamo scherzando Appena consumiamo ovviamente i colpi si attiva il gadget Guarda raga scarico tutto Ma cosa state dicendo? Ma quanti colpi riusciamo a fare? Non è vero ragazzi Non è vero Mi sento male Mentre li leggo mi viene da ridere Bull recupera istantaneamente 1500 punti salute Stiamo scherzando? Max di vita ragazzi Cioè questi gadget stravolgeranno completamente il game 1500 e più così Meguro ragazzi 1500 Jesse ragazzoli sfrutta la sua torretta per creare un'onda d'urto Che rallenta i nemici che si trovano nell'area d'effetto Potrebbe essere un'ottima combo interessante questa Andiamo ad attivare ovviamente la torretta Altrimenti non ci funziona il gadget La vado a mettere potenzialmente qui E via dei gadget Sbam Cioè spara una volta ogni tot E ovviamente sono tutti quanti fermi sul pezzo Guardate raga metto la torretta al centro Appiazzo qui Ho sbagliato ad attivare il gadget L'ho messo sulla torretta sotto Adesso lo riattivo Il raggio d'azione è pazzesco Fermi tutti questa è mistica Brock prenda missili il suolo Per ergersi in volo E causare 500 punti danno ai nemici nelle vicinanze Non riesco a non smettere di ridere Ovviamente posso già utilizzarla Vado al centro e vediamo che succede Ma vola come Dynamike Ha fatto un botto di danni Posso saltare il muro? Brock può saltare le mura e fare 1500 di danno Raga ovviamente in base a come ci spostiamo con l'analogico Il momento tanto atteso Dynamike Gira su se stesso Vorticosamente E scaglia attorno a sé Una miriade di candelotti Dinamite Ciascuno dei quali causa 700 punti danno Ai nemici Ma è Brawl Stars 3.0 Non serve neanche caricare la ulti Quindi per quelli che ti vengono vicino Se beccano sta roba qua ragazzi 6176 di danno Posso rifarla Me lo permettete Posso rifarla Infatti lancio il bombone Il gadget c'è ancora Lo voglio rifare Fermi un attimo 9800 Arriva Bo E posiziona un totem Che ricarica la sua super E quella degli alleati Che si trovano nell'area d'effetto del totem Lo posso mettere qui al centro quindi Ma quanto è bello Fa un rumore pazzesco ma Carica la super all'infinito Ha mille di vita E facilmente spaccabile Quanto ci mette a caricare la super Fate voi il conto ragazzi del tempo La carica a noi A tutti quanti I nostri alleati Io sono senza parole Sbam Ulticarica Metto Le bombette Tipo Se io sto qui Tra l'altro l'ho ripresa Perché ovviamente sono scoppiate le bombe Ma se io sto qua e colpisco C'è la ulti Si carica in due secondi ragazzi Quanti totem posso mettere Ne posso mettere solamente uno Alla volta non ne posso mettere ovviamente tre Ci vuole un po' per ricaricarlo Sbam Altro totem Molto molto easy Anche questa qua ragazzi Utilissima Stanno praticamente Baffando Tutti quanti I punti deboli dei brawler Tic scatta lontano Dal nemico più vicino Lasciando per terra Una mina Ce ne andiamo Piazzando una mina Qui sulla destra Vediamo un attimo Sbam Ovviamente Sono andato addosso al muro Però Il concetto è quello Cioè noi piazziamo una mina E fuggiamo da un eventuale mortis 700 di danno Più andiamo avanti Più la foglia aumenta 8 bit Si Teletrasporta subito Al suo potenzia danni Distruggendolo Quindi serve La torretta Io piazzo ragazzi Magari la torretta Lì dietro Vado a prendere dei colpi Magari il robot Riesce a farmi fuori Sfruttando la velocità Lentissimo Ovviamente il mio 8 bit Sconcertato Questa è illegale E questo credo sia L'ultimo comune Ovviamente non per importanza Ems sbalza all'indietro Tutti i nemici Nelle vicinanze E infligge loro 500 punti danno E' ottima Perché? Perché vi permette Ragazzi di sfruttare I tre colpi Del danno di Ems Vediamo un po' il centro Ma che spettacolo E via Li sbalzi Li fai andare via E li colpisci Con un triplo danno Ciao una rega Bam E vi beccate i danni di Ems Siamo al primo raro Ma non riesco ad essere serio E il primo afferra Il nemico più vicino E lo lancia dietro di sé Con la stessa facilità Con cui si rigira una tortiglia Il gadget Si dovrebbe attivare Quando ci avviciniamo Ad un brawler Guardate che figata Ad un qualcosa Che si può colpire No Gli fa il suplex Ragazzi Come si chiama? Credo il back suplex Non mi ricordo ragazzi Quello che ti prende Ti slancia lì indietro Fatemelo sapere qui sotto Con un commentino Totalmente OP Bombardino crea Una pozzangra Appiccicosa Col suo intruglio Rallentando Chiunque la calpesti Questa è troppa Questa è troppa roba Ragazzi Questa è veramente troppa roba Perché li fermate E poi li colpite Davvero davvero buono Questo gadget Secondo me con Bombardino Perché Bombardino Soffre un po' I push Dalla distanza Ciao Vediamo Pazzesco ragazzi Per 5 secondi Quindi un totale Di 2500 punti vita Immortali Questa qua Non l'ho capita Sinceramente Rosa crea Istantanamente Attorna a sé Dei cespugli Che forniscono Riparo dai nemici Cioè io posso Cambiare la morfologia Della mappa Se metto I cespugli qua Il robottino Mi colpisce più E posso sfruttare Le star power Interessante Ma Posso aumentare I cespugli Non credo ragazzi Non è vero Ma che spettacolo Credo sia Un dynamite 2.0 Stecca spara Delle sventagliate Di proiettili Rimbalzanti In tutte le direzioni Vado Regà Ah carino Quindi è un Double colpo In tutte le direzioni Per farli rimbalzare E colpirli Particolare Questa Questo gadget Da valutare 11.000 di danno Ha fatto? State scherzando Veramente 11.000? Maronna 12.480 Tanto per cambiare Dannamike 2.0 Beryl ruota Su se stesso Sparando colpi In ogni direzione Quanto è bello Il restyle Di Beryl 9.000 Ragazzi Tantissima roba Fidatevi di Grax Questa la nerfano sicuro Penny fa esplodere Il suo mortaglio Che finisce col Distruggere Mura Infliggere 1500 punti danno Ai nemici Nelle vicinanze Cioè noi possiamo Tirare ragazzi Un mortaglio esplosivo Guardate che roba Carichiamolo Non l'ho ancora visto Secondo me È una bomba Lo vado a mettere qua Ragazzi Appena si poggia No Con tanto di star power Fermi Fermi Questa è da nerfare Questa è totalmente OP Cioè in assedio si fanno delle cose fuori di testa Io faccio una cosa del genere Lo faccio esplodere Tanto l'ho missato Chiudete l'internet Carl lascia cadere lungo il tragetto Una serie di rocce bollenti Che infliggono 300 punti danno al secondo A qualunque nemico le calpesti Sto parlando Di una cosa del genere Ne spawna Ma all'infinito no Ne ha spawna di 7 o 8 Che durano un bel po' Ma se carico la ulti funziona lo stesso Fatemela caricare al volo Perché diventa una cosa illegale Nel senso Io vado a fare la ulti E allo stesso tempo ci metto anche Cavolo regà Abbiamo fatto quasi 10.000 di danno al robot Correggetemi se sbaglio Questa qua di Piper invece Molto interessante Quando qualcuno ci pusha da vicino E non riusciamo a fare gli danni necessari Per farlo fuori Piper spara 4 colpi rapidi Al nemico più vicino Causando 400 punti danno per colpo Quindi 1200 totale Oltre che ai classici danni Cioè io posso fare una cosa del genere Sbam E' bellissimo per i push da vicino Ad esempio Io provo a fare un colpo Eventualmente Non riesco a colpirlo A finirlo E questa spara Questa fa male Come per Pocho Boost di cura anche per Pam Pam Fai mettere alla torretta Una scarica curativa Che fa recuperare A se stessa E agli alleati Vicini 1200 punti salute Carichiamo subito la torretta E poi boostiamola subito Ovviamente mi serve Vicino al robottino Così da vedere Le cure La metto qua dietro E vediamo se funziona Dammi un bel boost Di 1500 Oltre che Di 1200 2 scusate Oltre che Ai 448 nel tempo Nice Nelle 3 putre Top OMG Cura totale di Pokemon Frank Una volta attivato il gadget Rimuove qualsiasi paralisi Che sta subendo E diventa immune A paralisi Ralentamenti e respinte C'è una sorta De tank Golem illegale Io mi butto questo Regà E sono immune Mi possono Impazzisco Impazzisco Purtroppo non ve lo posso far vedere qui Ma sono immune Ripeto Da paralisi Ralentamenti E respinte Mi possono tirare addosso Anche i pomodori Tiè Immortale BB BB recupera 600 punti salute Al secondo Per 4 secondi Però ovviamente Dobbiamo prendere danni Giusto? Cioè posso autocurarmi Ragazzi Per 4 secondi E posso andare a tirare Le mazzate Ad esempio attivo Questo gadget E posso andare a pushare Perché so Che prendo tutta quella salute In più Cari amici Se Bea Era totalmente OP Con il rallentamento I colpi bustati Ebbene sì Con il gadget Lo sarà ancora di più Bea lascia cadere Un favo Che rallenta Tutti i nemici presenti Nell'area di impatto Ma proprio easy Ma tipo ne metto Uno qui Se voglio Ne piazzo Uno di qua Quelli non si muovono Di lì Io li posso colpire Con colpi bustati Sbam Te ne metto un altro Guardate quanto miele a terra Che spettacolo Do sta Winnie the Pooh Dynamike 5.0 Mortis Rodea la pala Infliggendo 1300 punti danno A tutti i nemici vicini Potrebbero scambiarlo per Carl Oppure per Crash Bandicoot Vediamo un po' sta palata Regà 3, 2, 1 Beccatevi la palata Ammazza che raggio d'azione importante Ho fatto un sacco di danni Giusto? Riproviamo 11.000 Pam 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 Schiaffi da Mortis La fusione di Tara e Bo Tara e i suoi alleati Sono in grado di vedere Tutti i nemici Anche quelli nascosti Nei cespugli Per 5 secondi È il broderai L'occhio supremo Possiamo vedere tutto Però qui non ci sta il cespuglio Lo vado ad attivare Guardate l'occhietto di Tara Li posso scopare tutti Ho la massima visibilità Avete visto il raggio d'azione ragazzi? Aspettate Lo faccio rivedere Che non si è capito È più lungo Di quello di Bo Cioè io da questa posizione Riesco a vedere là sotto Abbiamo il campo visivo totale Buona pure questa di Eugenio Eugenio spinge immediatamente indietro Tutti i nemici vicini a lui E recupera mille punti salute Avete presente quei grab Che non vanno a buon fine Perché magari lo abbiamo grabbato Troppo presto? Ecco questo gadget Può salvarci la vita In quel caso Tipo grabbiamo male Vi faccio l'esempio no? Vado a grabbare Il robottino Il robottino ha troppa vita E non riesco a farlo fuori Quindi mi sta colpendo Mi sta per ammazzare Beccatevi la manata di Masha Champion andiamo a rispostare Lontano Lo vado a ricolpire E posso anche muovermi E fuggire Fichissimo Credevate che Maxine Fosse troppo veloce eh? Beh non avete visto ancora il gadget Maxine scatta in avanti Verso il nemico più vicino E mentre lo fa È immune da qualsiasi danno Credo tipo Shelly Giusto? Sbam Andiamo a colpire Non solo siamo straveloci Ma posso anche utilizzare La dashata Cioè proprio Finiamo la mappa Quanto ci metto a fare Fermi lo voglio vedere Quanto ci mettiamo A fare tutta quanta La mappa in velocità Fatemi caricare velocemente La ulti Lo voglio vedere Regà Con una sola dashata Ora le ho consumate Parte la maratona 3 2 1 Boost attivato Dashata Ho tagliato il traguardo In quanto? In quanti secondi? Per la rubrica Credevate? Credevate che i pinguini Di Mr. P Fossero troppo forti? Non avete visto ragazzi Il gadget Ma stiamo a scherzare Cioè io metto la torretta Qui no? Poi vado ad attivare Il gadget E il pinguino Viene boostato Di mille di vite E fa 514 di danno Senza power up Ci vediamo ragazzi E rimane fisso Ma che pinguino è? Ma la testa più grossa Del Mr. P È totalmente GM E anche per i leggendari Dynamike 6.0 Perché Spike lancia Tre ondate di spine In tutte le direzioni Causando 520 di danno 3 2 1 Ah Leggermente pungente Questo Spike Ci piace Molto piccante Beccatevi tutti gli spini Alcune comunque Sono veramente fuori Di testa Cioè Corvo riceve uno scudo Dalla durata di 3 secondi Che lo protegge Dal 60% dei danni Ma io sono senza parole Fatemi un attimo Caricare la ulti Cioè io posso fare Veramente un jump in the face E mettermi lo scudo Appena torno a terra? Ma sono immortale Sono veramente immortale Ne mancano due E se sono illegali Come questa Mi sento male Leon confonde i nemici Creando una copia Di se stesso Spero che sia un hologramma Vi prego Fatemi vedere Leon Faccio qualche danno veloce Tipo vado sulla destra Attivo il gadget Rotto il sistema Rotto il sistema Però può essere fatto fuori Con un solo colpo Ma è identico È identico Io posso anche farlo Mentre sono invisibile No Regà Fermi Voglio un attimo Studiarmi bene Questo gadget Un player Ci guarda con La ulti Sa che noi abbiamo La ulti Vado nella cicoria Attivo la ulti Oppure prima il gadget Quale? Attivo il gadget Attivo la ulti Un Leon parte E io che sono la copia Vera Me ne vado Ma Naruto Ci allaccia le scarpe Naruto Ci allaccia le scarpe Ragazzi Ultimo brawler Di oggi Se è anche Buggato il suono Del brawl Sandy Si addormenta Sul posto Per due secondi Recuperando Tutta la salute Quindi Io posso Prendermi Dei danni Fuggire Quindi andarmene Con pochissimo Mi faccio perdere Quasi tutta la vita 300 di life Mi butto qui Non mi posso muovere E per due secondi Solamente Di fermo Mi sono recuperato Tutta la vita Altri danni Che subisco Cioè tipo Anche a rimanere A mille di vita Riesco a chiudere Un muro A tagliare un muro Mi butto qua Mi fermo due secondi In una cicoria Prendo 4000 E poi posso tornare A affedare Contro gli avversari Ragazzi Io li ho analizzati tutti Spero di avervi strappato Una risata Vi chiedo 33 like Per tutti e 33 brawler Perché sono stati infiniti Giù Lo sto registrando Da un'ora precisa Like Iscrivetevi Attivate la campanella Arriveranno altre novità Incredibili su questo canale Questo è il canale giusto Su cui seguire Tutti i contenuti Supercell Tutti i contenuti mobile Codice Grax Nel negozio E seguitemi su Instagram E stiamo anche per arrivare A 150.000 seguaci Pure lì Vi mando un bacio Ciao belli Ci becchiamo anche live Ciao ciao Mi sto fuori da testa Ma sono bellissime Queste cose